Adesso per parlare di questo maxi-rave che ha coinvolto migliaia di giovani a Modena, un rave organizzato in occasione della festa di Halloween. I migliaia, come dicevamo, compresi numerosi stranieri, hanno fatto rotta nella notte verso questo cappannone abbandonato a bordo di camper automobili. Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare, raccordandosi con l'autorità giudiziaria ogni iniziativa per interrompere il rave party e liberare l'area al più presto. A Modena, convocato il Comitato per l'Ordine Pubblico in prefettura e sono in corso trattative tra le forze dell'ordine e i partecipanti di questo rave party. Ma lo ricordiamo, sono migliaia le persone che hanno raggiunto la città di Modena per festeggiare in questo rave party la notte di Halloween.